Ah che palle, non ho proprio voglia, ho fatto 400 iscritti, voglio fare il con, ma proprio non ho voglia, poi con tutti gli impegni, la scuola, puoi spendere 20 euro per dei giochi, ma chi c'ha voglia? Però se facessi il contest qualcuno si iscriverebbe per partecipare, magari fare degli iscritti e magari guadagnerai un sacco di soldi e diventerei ricchissimo! Che belle queste intro, mi ricordano molto quelle di Yotobi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanalev12 e contest time, ho raggiunto 400 iscritti, cioè 400 persone che mi seguono, quindi è anche imbarazzante come cosa, perché delle persone che ascoltano le mie cazzate, cioè sono, è strana come cosa, ma è anche molto piacevole, Ok, in realtà 400 iscritti li ho raggiunti un paio di settimane fa, però non ho avuto nel tempo materiale, nella voglia di fare il video contest, però ho ideato una cosa interessante per il contest Il contest non sarà il classico, metti mi piace, commenta, iscriviti e con scritto partecipo contest Il contest era una cosa molto, molto Professor Layton, vi darò un paio di enigmi, in realtà gli enigmi sono tre, quindi saranno tre video di contest dove ci saranno tre vincitori, ed è il numero perfetto, lo diceva anche Dante E voi dovrete risolvere degli enigmi, dei piccoli enigmi di difficoltà crescente, cioè quello di oggi sarà il più facile, quello di domani sarà il più difficile, l'intermedio e quello ancora di domani sarà il più difficile ancora Quindi, quello di oggi, l'enigma di oggi sarà molto più difficile, sarà molto più semplice di quello dell'ultimo, ma prima di iniziare parliamo dei premi Allora, un premio classico che nei miei video non può mai mancare, che è 10 giochi gratis di Steam, cioè il primo premio, cioè il vincitore numero 1, quello che arriverà primo, avrà 10 giochi gratis su Steam I giochi saranno sorpresa, neanche io so quali saranno, potranno essere da Black Ops 3 al più infimo dei giochi, però potranno essere un sacco di giochi, ci guadagnerete, lo dico io Il secondo gioco sarà, mi mancabile anche questo, Mirror's Edge, ormai voi tutti sapete che sono un partito della saga di Mirror's Edge, cioè in realtà la saga è un solo gioco che ora ne esce il 2, quindi è già una saga per me Ma sono un partito di Mirror's Edge, quindi come secondo premio io ci tengo a divulgare il mio gioco preferito Come testo Prime invece, un gioco che sinceramente ho deciso ora come ora, e penso che sarà Counter Strike, o Terraria, o Rocket League Sentite, facciamo una cosa, un video dentro il contest, voi insieme al vostro partecipo contest con la soluzione all'enigma dovrete anche decidere quale gioco di 3 volete, cioè tra Rocket League, Counter Strike e Terraria, quale volete di questi 3 giochi Ovviamente è il terzo premio, e quindi voi dovrete decidere, cioè dovrete scrivere sotto la soluzione dell'enigma, cioè in un unico commento, sotto la vostra soluzione di questo primo semplice enigma Il gioco che vorreste come terzo premio, il gioco che potreste vincere voi Bene, l'enigma lo state vedendo, praticamente consiste, voi vedete tutti questi simboletti, no? Ogni simboletto consiste, ogni simboletto rappresenta una parola Una parola, un'esclamazione, un complemento, un verbo E voi dovrete formulare la frase, l'unica frase, che si può evincere da questa, l'unica frase da sé, che ha senso Come vedete, se avete dei dubbi scrivetelo nei commenti A me sembra abbastanza semplice come spiegazione Però è efficace, cioè voi dovete, da questi simboletti, chi ha giocato a professore Layton conosceva questo enigma benissimo Io l'ho solo preso e modificato un pochino, infatti, a caso Cioè, non a caso, rifatto, un remake Quindi questo enigma è preso dal professor Layton vs Phoenix Wright Io l'ho riadattato, per i miei fini L'ho semplificato un pochino, ed eccolo qua Praticamente, voi dovete, da ogni, vedete, ogni riquadro C'ha dei simboli E sotto il riquadro c'è una frase, una frase, ci sono delle parole Voi dovrete capire ogni simbolo, che parola consiste E dovrete formulare l'unica frase o le uniche frasi che hanno senso Ok, io spero di essere stato abbastanza chiaro Secondo me è come tipo di video, come contest Secondo me è più divertente del solito Iscriviti, metti mi piace, commenta Quindi, iscrivetevi per partecipare Date la vostra soluzione all'enigma Mettete mi piace o non mettete mi piace I commenti saranno privati, non potrete vedere le soluzioni Le potrò vedere soltanto io E nel prossimo video dirò chi è passato allo stage 2 Ovviamente chi non supererà, chi non indovinerà Verrà eliminato, mi spiace veramente Però, secondo me, provare a risolvere un enigma Ovviamente, provare a risolvere un enigma È una cosa che tiene allenato il cervello Un po' come leggere Ovviamente nel prossimo video darò la soluzione A questo enigma E spero che il video vi sia piaciuto Se il contest vi interessa Iscrivetevi e fate quello che vi ho detto di fare E commentate Commentate con la risposta vostra E con il gioco che vorreste come terzo premio Qua da Emanale V11 Euforico È tutto Alla prossima